A Iasi, in Romagna, è stato proclamato Beato il Vescovo Anton Durcovici, Martire della Fede. Pastore selante e coraggioso, fu perseguitato dal regime comunista rumeno e morì in carcere. Morì di fame e sette nel 1951. Insieme con i fedeli di Iasi e di tutta la Romania, rendiamo grazie a Dio per questo esempio.